Buongiorno, questo qua è un video dedicato ai disabili. Ieri mi è successo un accaduto molto strano, che mi ha lasciato un po' perplessa. Quindi per questo decido di fare un video per far passare un concetto, spero che lo capite. E perché anche far finta di niente, sinceramente non me la sento. Perché a mio avviso comunque è abbastanza grave come situazione, più che altro a livello psicologica. Faccio questo video quindi per spiegarvi cosa mi è capitato ieri con un disabile. Allora, io faccio una premessa. Allora, io sono un tipo di persona, come tante persone al mondo, che non dà confidenza a tutti. Sono una persona che vive la sua vita molto per i fatti suoi, che si avvicina solo a ciò che gli interessa. E sono una persona che non è che dà confidenza semplicemente perché la circostanza richiede questo atteggiamento. Decido di vivere così la mia vita, perché voglio rispettare il mio modo di essere. Solo un attimo che c'è la Milou, che è tutta la mattina, che aveva lo scotch sotto la zampetta. Adesso sono riuscita a brancarla. Che continua a far casino da stanotte, eh? Abbiamo tolto lo scotch. E quindi faccio questa premessa, anche per dire, anche perché comunque è giusto farla. Perché mi sono resa conto che effettivamente non abbiamo tutti lo stesso carattere e la stessa personalità. Ad ogni modo io tendo a rispettare le persone che hanno un modo diverso di vedere le cose nella vita. Più che altro cerco di non imporgli il mio modo di essere. Sì, magari può capitare la critica o purtroppo può capitare il giudizio. So che è una cosa che non bisognerebbe fare, però essendo un essere umano pure io, a volte magari mi capita che se una persona non ragiona proprio come me, per me... Cioè, c'è comunque quel velo di giudizio che purtroppo non sono ancora riuscita del tutto ad eliminare. Anche perché è un po' una cosa insita nell'essere umano. Però ci lavorerò, ci lavorerò sopra. Allora, succede questo. Ieri stavo tornando a casa, un disabile del quartiere. Dico così perché è un ragazzo che avrò visto sì e no due volte in giro per il mio quartiere, stando qua da quattro anni. Che, mentre tornavo a casa con le buste della spesa, mi ha fermato. Mi ha fermato, mi stava praticamente seguendo, perché l'avevo visto già in un'altra via. Lui si è preso, attenzione a quello che dico, si è preso la briga di seguirmi. Ad un certo punto mi ha chiamato, ho sentito che mi chiamava. Io mi sono girata, più che altro perché avevo notato che era un disabile. Altrimenti, onestamente, non mi sarei girata. Proprio perché io in questo quartiere non do confidenza alle persone, quindi non ci sarebbe motivo per cui io mi devo girare se un uomo mi saluta o mi chiama. Anche perché non sono più una ragazzina. Non è che mi fermo se un uomo mi dice ciao o mi dice scusi signora. Poi, è ovvio, se si tratta di una persona con una problematica o un bambino, ovvio mi fermo, però di base non è che do confidenza così senza un motivo. Mi fermo perché appunto, visto che era una persona su una carrozzina, mi sono fermata e ho chiesto cosa volesse dirmi. Praticamente questa persona mi stava dicendo mi stava dicendo e tra virgolette mi ha anche fatto passare per mi stava dicendo che lui era un disabile voleva sapere perché io non lo saluto perché quando lo vedo, perché lui mi vede in giro per il quartiere ha detto che lui mi saluta sempre mai visto, comunque va bene, andiamo per gradi. Lui mi saluta sempre e io non lo saluto mai e poi ha iniziato tutto ad agitarsi come per farmi capire che lui è un disabile quindi ha iniziato con i polsi a fare dei movimenti per far vedere che non li muoveva bene quindi facendo, scusatemi, facendo tipo la vittima perché io dovevo avere pena di lui perché lui non muoveva bene i polsi perché nel frattempo che muoveva i polsi diceva io sono disabile non vedi che sono disabile e oltre a questo ha iniziato a dire che lui non era un animale al di là del fatto che io non ce l'ho con gli animali e gli animali comunque oltre che salutarli io mi fermerei proprio a dargli da mangiare a tutti quindi non capisco il paragone già qua io non sono un animale in che senso non è che gli animali cioè non è che gli animali dovrebbero essere trattati male cosa vuol dire? ma non sorvoliamo e non usciamo dai dai range mentali e niente continuavo a fare sta roba qua con i polsi dicendomi io non sono un disabile io non sono un animale continuando con questa cantilena allora innanzitutto non è la modalità di parlare con le persone che non si conoscono prima di tutto ok? anche se una persona è disabile deve sapersi porre perché io ho voluto comunque non rispondere a tono però ad ogni modo sono del presupposto che qualsiasi tipologia di situazione che una persona ha deve sapersi porre con persone che non conosce perché innanzitutto l'educazione prima di tutto anche perché appunto io non ho risposto però questo modo di fare poteva anche offendermi poteva anche offendermi perché io non sono una che dà dell'animale alle persone visto che continuava a dire io non sono un animale tu non mi hai salutato io non sono un animale cosa fa capire? che io gli ho detto che è un animale quindi secondo me lui è un animale quindi innanzitutto educazione secondo se se c'è questa cosa io capisco che le persone con disabilità abbiano delle problematiche psicologiche perché mi rendo conto che è un animale